A Mosè dunque e ad Aronne fu affidata dal Signore la missione di liberare il popolo dal gioco egiziano. Dopo aver ricevuto questa missione da Madian Mosè tornò in Egitto con moglie e figli. Durante il viaggio accadde però qualcosa di particolare. Ce ne parla Esodo 4 24 26. Ad una fermata gli si fece incontro il Signore e stava per farlo morire. Subito la moglie di Mosè prese una pietra affilata e circoncise il prepuzio del figlio suo e toccò i piedi del marito e disse tu mi sei uno sposo di sangue. Egli allora lo lasciò dopo che ella aveva detto sposo di sangue a causa della circoncisione. La spiegazione di padre Ricciotti di questo passo è che Mosè sia stato colpito da una grave improvvisa malattia per non aver circonciso uno dei figli. Rimediando per mezzo della moglie questo Mosè guarì. Mentre Mosè stava ormai giungendo nella terra egiziana su comando di Dio gli corse incontro Aronne che lo baciò e Mosè gli riferì ogni parola del Signore. Assieme radunarono tutti i signori cioè gli anziani di Israele e Aronne riportò al popolo tutto ciò che Dio aveva detto al fratello. Il popolo si prostrò e adorò il Dio. In seguito giunsero Aronne Mosè il cospetto del faraone. Ricordiamo che Mosè aveva 80 anni e Aronne 83 al quale faraone ingiunsero di liberare il popolo di Dio cosa che il sovrano ovviamente rifiutò. Questo episodio fece anzi infuriare il faraone a tal punto che in quello stesso giorno ordinò ai commissari del popolo quindi ai capimastri di non dare più agli ebrei la paglia per fare i mattoni. Essi avrebbero dovuto cercarsela da sé con l'obbligo tuttavia di produrre la stessa quantità di mattoni di prima. Quindi la sfida di Mosè e Aronne al faraone fece arrabbiare ancora di più il faraone che indurì ancora di più le condizioni del popolo ebraico. Il popolo protestò con Mosè e Aronne per averli messi in cattiva luce dinanzi al faraone. Afflitto Mosè si rivolse al Signore il quale gli rispose che a questo punto avrebbe usato le maniere forti. Indi promise nuovamente a Mosè che il popolo sarebbe stato liberato. Esodo 6, 6-8. Dirai ai figli di Israele io sono il Signore che vi caverò dal carcere degli egiziani, vi sottrarò la schiavitù e vi libererò con braccio forte e castighi grandi. Io vi prenderò per il mio popolo e sarò il vostro Dio e voi conoscerete che io sono il Signore Dio vostro quando vi avrò cavati dal carcere degli egiziani e vi avrò condotti nella terra che io giurai di dare a Bramo, ad Isacco e a Giacobbe. Io ve darò in vostra possessione, io il Signore. I due fratelli tornarono dunque al faraone ma il Signore annunciò a Mosè che non sarebbero stati creduti. Dio avrebbe indurito volutamente il cuore del sovrano e la punizione di Dio contro l'Egitto sarebbe stata ancora maggiore proprio per questo motivo, per questo indurimento del cuore e per mezzo di questa i figli di Israele sarebbero in seguito partiti dall'Egitto. Aronne e Mosè giunsero dunque dal faraone e gli mostrarono alcuni segni. Esodo 7, 10-13. Presentatisi dunque Mosè ad Aronne al faraone fecero come aveva comandato il Signore e Aronne gettò la verga innanzi al faraone e ai suoi ministri e si mutò in serpente. Allora il faraone chiamò dei maghi e degli stregoni, i quali fecero anch'essi lo stesso servendosi degli incantesimi egiziani e di altri segreti. Quindi l'interazione con forze occulte, demoniache, si praticava in Egitto per via di questa magia. Gettarono anch'essi ciascuno le loro verghe e si mutarono in serpenti, ma la verga di Aronne divorò quei serpenti. Il cuore del faraone però si indurì e non dette ascolto ad Aronne e a Mosè, come aveva detto il Signore. Come si nota quindi l'Egitto era una terra ricca di maghi e stregoni in grado di compiere prodigi, attenzione, non miracoli ma prodigi, non miracoli ma prodigi. E per questa ragione né il faraone né il suo personale si stupirono molto dinanzi a questi segni. Di fatto comunque il faraone non cedette, il suo cuore era stato indurito, cioè reso ostinato da Dio stesso affinché la punizione fosse ancora maggiore. Ed ecco che quindi si passa alle maniere forti, dopo le buone vengono le cattive, le dieci piaghe d'Egitto. Di fronte al faraone che non volle ascoltare la richiesta di Mosè e Aronne furono combinate queste punizioni, queste piaghe, alla terra d'Egitto e agli egiziani. Prima piaga. L'acqua del fiume me si tramutò in sangue con il tocco della verga di Aronne. I pesci morirono, le acque si imputridirono e nessuno pote più bere. Ciò accadde a ogni fiume, rivo, stagno o riserva d'acqua, anche contenuta nei vasi di legno. Eppure ancora una volta la magia degli stregori egiziani venne in soccorso, ma in soccorso malefico perché il cuore del faraone fu ancora più indurito. Gli stregoni egiziani fecero lo stesso con i loro incantesimi, quindi mostrarono anch'essi di essere in grado di tramutare l'acqua in sangue e il cuore del faraone si indurì. Esodo 7, 22. Seconda piaga. Dopo sette giorni Mosè e Aronne si ripresentarono dal faraone. Mediante il tocco delle acque con la verga, Aronne fece uscire Rane a ricoprire tutta la terra d'Egitto, in ogni casa, in ogni stanza, nei forni, nei cibi degli egiziani. Questo non sorprese i maghi egiziani, che fecero lo stesso, chiamando anch'essi Rane dalle acque. Questa volta, tuttavia, il faraone almeno inizialmente si pentì e pregò Mosè e Aronne di far cessare il flagello. Ma terminato il flagello, il faraone tornò sui suoi passi. Terza piaga. Aronne, stendendo la verga, percosse la polvere della terra e ne provennero zanzare che attaccarono tutti gli egiziani e gli animali. Il prodigio stavolta non riuscì ai maghi, che dovettero riconoscere l'intervento divino. Il faraone però non cedette. Quarta piaga. Dopo le zanzare, le mosche. Mosè lanciò un'invasione di mosche in tutto l'Egitto, mosche che tormentavano solo gli egiziani, non il popolo di Dio. Inizialmente il faraone si pentì e le mosche se ne andarono, ma poi tornò presto sui suoi passi. Quinta piaga. Una pestilenza tremenda si abbatté sui cavalli, sugli asini, sui cammelli, sui buoi e sulle pecore d'Egitto, ma non sugli animali di Israele. Non servì a nulla. Sesta piaga. Dinanzi al faraone, Mosè prese della cenere dalla fornace e la gettò in aria. Uomini e animali vennero colpiti da ulcere tremende, tanto che anche i maghi dovettero ritirarsi a causa dei fastidi, ma ancora una volta il Signore indurì il cuore del faraone. Settima piaga. Una grandine tremenda, mai vista in quella terra, colpì l'Egitto intero. Prima dell'inizio del flagello, coloro che temevano la parola di Dio anche fra i ministri del sovrano, fecero immediatamente rientrare nei ripari il bestiame e i servi. Ma così non fece il faraone. La piaga fu devastante. Grandine fuoco, dicono le scritture, caddero assieme. Uomini e animali che si trovavano nei campi furono colpiti. Le piante gli alberi vennero spezzati. Solo nella regione di Gessen, dove risiedevano gli ebrei, la grandine non cadde. Inizialmente il faraone ancora una volta si pentì e supplicò a Mosè di far cessare il tormento, ma poi tornò sui suoi passi. Ostinazione assoluta. Ottava piaga. Mosè stese la verga sull'Egitto e Dio fece venire un vento abbruciante per tutto quel giorno e la notte. Al mattino il vento sollevò una quantità sterminata di locuste che invasero tutto l'Egitto, divorando l'erba del suolo e ogni frutto sugli alberi, cioè quanto la grandine aveva risparmiato nella piaga precedente. Non rimase più niente di verde, niente alberi, niente erba. Persino i ministri del faraone supplicarono il sovrano di lasciar partire il popolo del Signore. Il faraone chiese perdono e Dio, su preghiera di Mosè, fece spirare un vento che portò via le locuste. Ma ben presto il sovrano tornò sui suoi passi. Non a piaga. Per tre giorni e tre notti vi fu una tenebra orribile, una notte assoluta, tanto che nessuno poteva vedere il suo vicino, né spostarsi da dove si trovava. Solo nella zona abitata dagli ebrei vi era luce. Il faraone rifiutò di far partire Israele e minacciò anzi Mosè di morte se si fosse presentato nuovamente da lui. Arrivò allora la decima piaga. Nonostante le minacce Mosè comparve nuovamente davanti al faraone per preannunciare la decima e ultima piaga, la più terribile, la morte di tutti i primogeniti degli egiziani, compreso quello del sovrano, degli schiavi egiziani e persino i primogeniti degli animali. Quindi come precedentemente i faraoni avevano voluto che i nuovi nati maschi ebrei del popolo ebraico fossero sterminati, così adesso il Signore ripagava con la stessa moneta gli egiziani. Prima che questa piaga si concretizzasse fu istituita la festa della Pasqua che deriva da Pesach, cioè passare oltre, tradotto letteralmente in italiano. Dio ordinò che il decimo giorno del primo mese dell'anno, chiamato Abib o mese delle spighe e più tardi Nisan, ogni famiglia e casa mangiassero un agnello, seguendo precise istruzioni. Lo si sarebbe dovuto mangiare in fretta in atteggiamento da avviandanti frettolosi, come spiega padre Ricciotti. Dice Esodo 12, 11, 14 mangerete in fretta perché è la Pasqua, cioè il passaggio del Signore. Io infatti in quella notte passerò per l'Egitto e percuoterò ogni primogenito nell'Egitto, dall'uomo all'animale, e farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto, io il Signore. Ma quel sangue sarà un segnale per vostra difesa nelle case dove sarete. Io vedrò quel sangue e passerò oltre. Quel giorno vi starà ricordo e lo celebrerete solennemente. Dunque, segno di riconoscimento dei figli di Israele, ovviamente esclusi dallo sterminio dei primogeniti, era sangue d'agnello messo sulla porta, sulla soglia superiore e sui battenti. La festa di Pasqua venne istituita come un rito perpetuo, secondo il comando del Signore, con divieto assoluto di svolgere lavori. A questo punto Dio inviò il suo angelo sterminatore che uccise i primogeniti egiziani, tanto che, dicono le scritture, non vi era casa nella quale non fosse un morto. Il faraone, disperato, impose stavolta lui stesso agli ebrei di andarsene, concedendo loro greggi e bestiami e su richiesta degli ebrei stessi persino argento e oro e vesti in abbondanza. I figli di Israele partirono da Ramesse in 600.000 uomini, senza contare i bambini, e si diressero a Sokot. Le scritture narrano che con essi partì una turba grandissima di genti di varia specie, greggi poi e armenti e bestiami di vario genere, in numero stragrande. Gli israeliti, in tutto, erano rimasti in Egitto 430 anni, dopodiché furono liberati dal Signore.